Santa Gapito, brutta disavventura per un quarantenne aggredito da sei cani e finito in pronto soccorso, ma la vittima precisa la colpa e chi dovrebbe custodirli. Grosso incendio alla periferia di Termoli, lambisce le abitazioni, 15 famiglie evacuate nel cuore della notte. Campobasso, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, manca ancora una soluzione definita per gli studenti della Dovidio. L'IRTZ Neromed di Pozzilli ha accolto la Summer School Schia che quest'anno ha affrontato il tema della voce a cavallo tra estetica e psicoanalisi. Grande successo sabato scorso a Castel Romano, frazione di Sernia per il Festival del Folk Molisano, un tuffo nelle tradizioni popolari. Questi titoli dell'edizione di oggi del nostro telegiornale ben trovati. Iniziamo parlando di incendi perché dalle 21 di domenica sera diversi incendi hanno appunto visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Prima nei pressi di Tavenna, poi Campomarino, infine il più esteso alla prima periferia di Termoli tra i popolosi quartieri di difesa grande e Colle Macchiuzzo. In via precauzionale sono state evacuate anche 15 famiglie e alcune abitazioni sono state interessate dal fuoco. La situazione si è normalizzata dopo tre ore di lavoro e soltanto verso le 4 si è appunto concluso l'intervento sul posto anche la Polizia Stradale e una squadra della protezione civile di Termoli. Sull'incendio è arrivato anche il plauso del sindaco di Termoli Nicola Balige. In qualità di primo cittadino di Termoli a nome di tutta l'amministrazione comunale ha affermato desidero ringraziare tutte le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile che fino a questa notte sono stati a lavoro per spegnere il grosso incendio divampato all'interno di un costone nella zona di Colle Macchiuzzo. E ora ci spostiamo a Santa Gapito, brutta disavventura per un quarantenne aggredito da sei cani e finito in pronto soccorso. Ma la vittima comunque precisa, la colpa è di chi dovrebbe custodirli. Antonio Leone. Ha rischiato conseguenze ben peggiori. Il quarantenne che sabato scorso, poco fuori il centro abitato di Santa Gapito, è stato aggredito da sei cani mentre stava passeggiando lungo una strada particolarmente frequentata da chi vuole trascorrere qualche ora di relax immerso nella natura. Gli animali si sono avventati sul suo polpaccio, provocandogli una ferita profonda. Il sangue usciva copioso, così nonostante il dolore è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale di Sernia dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura ed effettuato gli esami del caso. Una zona che il giovane conosce molto bene e che frequenta abitualmente, ma questa volta davanti a lui si sono palesati sei cani che, come ha spiegato il malcapitato, pur non essendo randaggi perché accuditi da alcuni abitanti del posto sono stati lasciati in libertà. Gli animali sin da subito hanno mostrato un'indole aggressiva. Il quarantenne, non avendo generalmente timore, è riuscito a rimanere lucido. Ha deciso di restare immobile con la speranza che gli animali si allontanassero, ma poco dopo il branco si è avventato contro di lui azzannandolo. La vittima ha continuato a rimanere impassibile e per fortuna poco dopo i cani si sono dileguati. Se al posto mio ci fosse stata una persona più inesperta di comportamenti animali, probabilmente avrebbe avuto conseguenze ben peggiori. Voglio sottolineare però che la colpa di quanto accaduto non è di certo dei cani, che tra l'altro io adoro, ha spiegato il quarantenne aggredito, ma di chi li custodisce, anche perché, mentre gli animali si avventavano contro di me, chi ha assistito alla scena ha deciso di non intervenire, rimanendo a distanza, né tantomeno ho ricevuto risposta quando ho chiesto se gli animali fossero vaccinati. Chi possiede più cani, ha continuato il malcapitato, ha una grossa responsabilità ed è impensabile che questi vengano lasciati completamente liberi in mezzo a una strada generalmente molto frequentata. Intanto la vittima sta valutando la possibilità di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine affinché, quanto capitato a lui, non accada ad altre persone. È una disavventura, è interessato anche un uomo della provincia di Caserta. L'episodio è accaduto domenica a Guardiareggia, quando l'uomo è rimasto bloccato in un dirupo nei pressi delle gole del fiume San Nicola. Ce ne parla Gerardo De Luca. Domenica movimentata a Guardiareggia, dove un 52enne della provincia di Caserta è rimasto bloccato in un dirupo nei pressi delle gole del fiume San Nicola. I carabinieri di Boiano, allertati dell'accaduto, hanno subito contattato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, che ha avviato le ricerche per individuare l'uomo. Solo in serata, a seguito di una lunga ricognizione durata tutto il pomeriggio, i soccoritori sono riusciti a localizzare l'uomo finito in un dirupo profondo decine di metri. Diverse squadre del Soccorso Alpino, con il supporto del personale tecnico dei servizi regionali di Molise e Campania, hanno lavorato tutta la notte per trarlo in salvo. Per raggiungere il 52enne, i soccoritori si sono dovuti calare con le corde per oltre 80 metri e successivamente lo hanno riportato in sicurezza lungo un pendio boscoso di circa 300 metri, fino a raggiungere la rete stradale ordinaria, dove una postazione del 118 era pronta ad accoglierlo. Le operazioni di recupero si sono concluse alle 3.30 di questa mattina. L'uomo, visibilmente scosso e affaticato, con alcune scoriazioni, è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Una volta ripresosi dalla brutta esperienza, il 52enne ha affermato di essere finito nel dirupo per via del terreno impervio a ridosso delle gole del fiume San Nicola. E questa mattina all'alba un grosso arbusto è caduto sulla strava che collega Campomarino con Campomarino Lido, danneggiando un'autovettura in transito. Per fortuna pochi danni senza il coinvolgimento al conducente. Edilizia scolastica a Campobasso. Manca ancora una soluzione definita per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Dovidio. La scuola Ponte di Selvapiana non si farà, quindi gli alunni probabilmente saranno divisi in diversi plessi nel centro della città. Francesco Adamo. Questa mattina a Campobasso si è riunito il Consiglio Comunale sul delicato tema dell'edilizia scolastica. Scuola Ponte a Selvapiana non si farà. Una parte della scuola Dovidio, forse la scuola di primo grado, ma stiamo vagliando anche per la primaria, poi sarà decisione da prendere anche con i diretti interessati, andrà appunto nei locali del Pila in Via Veneto, zona centralissima per l'infanzia. L'abbiamo detto più volte, avranno il loro posto già da fine settembre, inizio d'ottobre, in un locale di Via Berlinguer e resta da sistemare l'altra metà della scuola, le dieci classi della scuola primaria, ma siamo in trattative e troveremo ben presto la soluzione. Tuonano le opposizioni. Cosa si fa della progettazione viata e dei costi? Siamo stupiti per il fatto che 20 giorni fa, in un assestamento di bilancio, la maggioranza intera, compresa l'area civica, ha votato, quindi l'assestamento in pratica una variazione di bilancio, la predisposizione di 3 milioni e mezzo come accensione di mutuo nella cassa depositi a prestiti per la sistemazione quindi di Selvapiana. Domanda, che si fa adesso di questa decisione? Che si fa di Selvapiana? Che si fa della progettazione già viata e quindi che ha previsto un costo? Risposte ancora non ce ne vengono. Ripeto, siamo felici che si possano trovare soluzioni alternative in centro per dare risposte giuste alle famiglie, ai licenti, al personale ATA, a tutti gli alunni della Dovidio. Ben venga questa scelta, ma allo stesso tempo c'è mancanza di chiarezza sulla zona di Selvapiana. Che si fa su Selvapiana? Fine settimana ha movimentato a Termoli dove è stata rubata una Ford Cuga. In questo caso però a Ladro non è andata molto bene perché si è ritrovato ben presto inseguito dai carabinieri lungo la statale in direzione Puglia. L'inseguimento è terminato alle porte di Foggia dove i militari pugliesi, allertati dai colleghi di Termo, gli hanno fermato appunto l'autore del furto. L'uomo è stato arrestato in flagranza e condotto in caserma. L'auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'IRS Neuromed di Pozzilli ha accolto la Summer School Schia che quest'anno ha affrontato il tema della voce a cavallo tra estetica e psicoanalisi. Sentiamo Caterina Gianfrancesco. Arrivata la quarta edizione, la Summer School Schia che dopo la Summer School Psicomed è andata in scena nell'IRS Neuromed di Pozzilli la prima settimana di settembre. Un momento di confronto tra studenti, docenti e clinici a cavallo tra estetica e psicoanalisi. Il titolo dell'iniziativa è Il respiro della voce e ha visto responsabili scientifici, i professori Silvia Vizzardelli, docente di estetica e filosofia della musica dell'Università della Calabria, Matteo Bonazzi, filosofo e psicoanalista, professore presso l'Università di Verona e Mario Aiazzi Mancini, psicoanalista e scrittore, docente presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze. Schia è una scuola di estetica e psicoanalisi che vuole confrontare la filosofia dell'arte e la filosofia dell'esperienza sensibile e della creatività con la psicoanalisi e con la neurologia. Siamo per la seconda volta ospiti di Neuromed, anche l'anno scorso siamo stati qui, abbiamo dedicato l'anno scorso la scuola al tema dell'inconscio, le partiture dell'inconscio, ma non siamo qui soltanto perché c'è questa generosa ospitalità del professor Centonze, Centonze, anche perché c'è tra di noi una collaborazione che ormai va avanti da lungo tempo per cui incrociamo il discorso neurologico, il discorso psicoanalitico, il discorso psichiatrico con quello filosofico. L'idea è che la voce non soltanto sia diciamo qualcosa che utilizziamo per esprimerci, per trasmettere dei contenuti, ma anche qualcosa di graffiante, di toccante, qualcosa che appunto tatua il nostro corpo, quindi qualcosa di materico. Questa dimensione sonora, queste voci, chiamiamole pure le voci della natura se volete, insomma, in questo senso come si organizzano all'interno di un pensiero coerente e al tempo stesso si organizzano, destrutturano il pensiero e lo aprono sempre a nuove situazioni, a nuove possibilità. Cambio al vertice del comando provinciale Carabinieri di Campobasso, Luigi Delle Grazie saluta il Molise dopo tre anni. In arrivo invece il colonnello Luigi Di Santo, originario di Vasto. Francesco Adamo. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri, il colonnello Delle Grazie, giunto nel 2021, saluta il capoluogo regionale, analizzando il lavoro svolto in questi anni fra lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti. Per lui adesso il ruolo di capo ufficio personale Legione Abruzzo Molise a Chieti. Un'esperienza gratificante, lascio una splendida terra. Beh, devo dire un'esperienza bellissima, un bel viaggio, un bel viaggio dal punto di vista professionale, tantissimo dal punto di vista personale, mi sento veramente del chito, ma veramente lo dico col cuore. La realtà molisana, la realtà campobassana, la provincia di Campobasso, ha due nette divisioni, una netta divisione in due zone, Basso Molise, Termoli, Campomarino, vicinanza alla criminalità foggiana. Abbiamo cercato di porre argine, sicuramente si può fare sempre e comunque di più, perché comunque è una criminalità aggressiva e trova presso di noi, o meglio, pensa di trovare presso di noi, la loro comfort zone, ma cerchiamo di contrastarla. Boiano, la piazza di Boiano, l'abbiamo condata di fatto, diverse operazioni e servizi che avete eseguito con me, abbiamo disarticolato diverse volte, organizzazioni di spaccio che vengono a rifornirsi, però vengono rifornite dall'area campana. A giorni, a Campobasso, l'arrivo del nuovo comandante, il colonnello Luigi Di Santo, 49 anni, originario di Vasto. Festa grande ad Acquaviva con le Croce, almeno per un cittadino di Acquaviva con le Croce, perché grazie al gioco dell'otto, nel piccolo paese molisano, come riporta Agi Pro News, sono stati vinti oltre 25 mila euro, in seguito alla combinazione dei numeri 28, 55, 73, 82, sulla ruota nazionale. All'auditorium di Sernia si è svolto l'evento Facciamo Muro, con l'obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Gerardo De Luca. Contro la violenza sulle donne, all'auditorium di Sernia, si è svolto l'evento dal titolo Facciamo Muro, con l'obiettivo di utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione su un tema tanto attuale come quello riguardante la violenza di genere. Una manifestazione che ha segnato il connubio e la collaborazione tra l'associazione MeToo con il presidente Pasqualino De Mattia e l'ASD Volley di Sernia. Credo di sì che sia giusto che anche lo sport faccia la sua parte perché notisi anche proprio di oggi che un'atleta è stata vittima di femminicidio. Lo sport infatti non è soltanto un modo per tenersi allenati, ma può servire anche a liberarsi dalla morsa di violenza a cui una persona potrebbe essere soggetta. Ti permette anche di allontanarti da realtà tossiche, ti fa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ti permette di capire che una persona che ti opprime non è la persona giusta per te e lo sport ti libera e ti avvicina a tante realtà positive. Alla realizzazione dell'evento ha contribuito anche l'artista Serenella Gregorio con la presentazione del suo quadro Il potere di fare muro. Concettualmente il muro rappresenta una divisione, una forza tenace che contrasta e in questa mia opera ho voluto rappresentare la violenza, le oscurità e le brutalità con lo scuro. È un muro colorato che pian piano sconfigge il male e le brutture che ci sono. La violenza di genere è ancora oggi una piaga per la società, ma vedere eventi come Facciamo un muro dell'associazione MeToo fa sperare in un futuro in cui le donne possano vivere senza il timore di subire qualsiasi forma di violenza. Grande successo sabato scorso a Castel Romano frazione di Isernia per il festival del folk molisano, quindi un tuffo nelle tradizioni popolari. Antonio Leone. Nemmeno un anno fa il gruppo folk Città di Isernia muoveva i suoi primi passi dopo 12 mesi e già stato protagonista di una manifestazione che ha richiamato tantissimi appassionati e che soprattutto ha visto esibirsi diversi gruppi della regione molise. Grande successo a Castel Romano popolosa frazione di Isernia per il festival del folk molisano, riscoprire le tradizioni popolari che rischiavano di andare perdute e coinvolgere più giovani possibili. Questa è la missione del presidente Franco Di Lemme. di strada ne abbiamo fatta, siamo cresciuti, cresciuti abbastanza realizzando tanto a cominciare dal costume e alle esibizioni che abbiamo fatto in giro in Italia e questo sempre grazie al gruppo di Carpinone che quando poi ci porta con sé per farci conoscere il mondo del folklore. Come detto, al festival hanno preso parte anche lo storico gruppo Rumacca Tour di Carpinone guidati da Michele Castrilli, una vera e propria icona del folk molisano, e i Dragoni del Molise, Sotalizio Agnonese, conosciuto in tutto il mondo. Per me è un onore stare qui stasera come tantissime altre sere. Adesso giriamo il mondo fino ad adesso. Adesso abbiamo ripreso il gruppo veramente molto forte e i Dragoni del Molise restano sempre i Dragoni. E quindi con le nostre campane dove tutti quanti ci dicono ma che bello, che bello, noi diciamo sempre abbiamo ascoltato la voce degli angeli. È quello che ci caratterizza in questo gruppo e poi noi andiamo sempre siamo nati in Canada quindi a Montreal. Figuriamoci un po' e abbiamo girato tutto il mondo e stasera bellissima, una cosa molto molto bella. Bene, questo era l'ultimo servizio. Ora vi lascio al consueto appuntamento sportivo a cura di Michele Visco con i risultati del Campobasso della Serie D Girone F e dei campionati d'eccellenza e promozione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Gentili telespettatori bentornati con Sportivamente Flash il nostro approfondimento sportivo d'inizio settimana è lunedì 9 settembre partiamo annunciando il risultato del Campobasso sconfitto dalla Pianese per 2 a 0 e vediamo che risulta il servizio preparato dalla nostra redazione di Campobasso. Siamo proprio scesi in campo dopo abbiamo preso questi due gol siamo spariti dal campo non abbiamo avuto una reazione non abbiamo avuto niente l'ho già detto ai tuoi colleghi dobbiamo solo chiedere scusa per chi era presente e per quelli che sono rimasti a casa e pedalare perché abbiamo fatto veramente una pessima figura iniziare a dare sottoscritto a tutto lo staff a tutti i giocatori compreso anche il magazziniere per fatti capire che è veramente stata una partita brutta senza cattiveria senza rabbia ci hanno mangiato vivi andavano tre volte noi ma l'ho per un fatto di preparazione un fatto di motivazione cioè noi pensiamo troppo a volte ad essere bravi noi dobbiamo dimostrarlo sul campo non a chiacchiere almeno per me poi qualcosa faremo vediamo quelli che staranno meglio cercheremo di andare a cercare il meglio di quello che possiamo schierare che viene una grande squadra sabato da casa nostra e dobbiamo saper ripartire dobbiamo cercare di far risultato in tutte le maniere bene torniamo con i risultati partiamo dal campionato di serie di girone F il campionato che si apre con la prima giornata è successo questo ancora città di Sernia San Leucio 2 a 0 Atletico Ascoli San Benedetto 0 a 0 Avezzano Calcio Chieti 0 a 3 Castelfilardo Vigor Senigalli 0 a 3 Fossombrone città di Teramo 4 a 1 L'Aquila Civitanovese Calcio 3 a 0 Notaresco Calcio Termoli 0 a 2 Canatese Fermano 2 a 3 Roma City Football Club Soracalcio 1907 2 a 3 La classifica del campionato nazionale di serie di Girone F Fossombrone 3 Chieti 3 L'Aquila 3 Vicossenigalli 3 Ancona 3 Calcio Termoli 1923 Solacalcio 3 Fermana Atletico Ascoli San Benedettese 1 punto Re Canatese Roma City Football Club Città di Sernia San Leucio Notaresco Città di Teramo Avezzano Calcio Castelfilardo Civitanovese Calcio 0 punti La prima giornata del campionato di eccellenza Molisano Esegna Fraterna Vasto Girardi 0 a 4 Boiano Football Club Matese 1 a 4 Bois Vairano Limpia Nionese 0 a 0 Sporting Venafro 1 a 1 Calcio Virtus Gioiese Ripa Limosani 6 a 1 Castelfilardo San Groceppe 1953 Atletico Sempitro in valle 1 a 0 Sesto campano Calcio Real Guglionesi 2 a 6 Calcio Montenegro Aurora Alto Casertano 0 a 1 La classifica Guida Il calcio Virtus Gioiese 3 punti Real Guglionesi Vasto Girardi Football Club Matese Aurora Alto Casertano Castelfilisangro Cetto 1953 3 punti Venafro Sporting Bois Ferrano Olimpia Nionese 1 punto Atletico San Pietro in valle Calcio Montenegro Boiano Sesto campano Calcio Esegna Fraterna Ripa Limosani 0 punti Chiudiamo con il campionato regionale di promozione Atletico Torremaggiore Chaminade Campobasso 2 a 0 Polisportiva M Juvenes Polisportiva Fortore 1 a 1 Difesa Grande Termo Di Ruffer Presenzano 1 a 1 Guardia Fira Trivento 0 a 2 Locomoli Riccia Forlum 1 a 2 Polisportiva Calena Alife 1 a 1 Baranello Roccaraviglia 2 a 1 Spinete Marone Morcone Calcio 2 a 1 La classifica Guida Noll Atletico Torremaggiore Il Trivento Il Baranello Il Forlum E lo Spinete 3 punti Alife Difesa Grande Termo Polisportiva M Juvenes Polisportiva Fortore Polisportiva Calena Ruffer Presenzano 1 punto Locomoli Riccia Morcone Calcio Roccaravindola Chaminade Campobasso Guardia Fira Chiudono La classifica a 0 punti Torremaggiore Civ���kä Picely Correa An imento Chiudone люб Pop res H 쌓 Picely Chdt Tramp Poes Vitamin Chonas Marie